consentitemi di immaginare dal momento che i fatti sono così difficili a ottenersi che cosa sarebbe accaduto se shakespeare avesse avuto una sorella meravigliosamente dotata chiamata judith poniamo molto probabilmente shakespeare frequentò poiché sua madre era un'ereditiera la scuola secondaria dove è probabile che avesse imparato il latino ovidio virgilio e orazio e gli elementi base della grammatica e della logica egli era come è noto un ragazzo irrequieto che cacciava di frodi conigli e forse uccideva qualche daino shakespeare fu costretto assai prima del dovuto a sposare una donna dei dintorni che gli detto un figlio assai prima del lecito quel colpo di testa lo spinza a cercare fortuna a londra egli aveva quanto sembra una passione per il teatro cominciò facendo la guardia ai cavalli vicino all'ingresso degli attori molto presto riuscì a lavorare in teatro divenne attore di successo e si trovò a vivere al centro di quell'universo incontrando tutti diventando amico di tutti facendo pratica della sua arte sulle tavole del palcoscenico esercitando i suoi talenti per le strade e persino ottenendo accesso al palazzo della regina nel frattempo quella sua sorella straordinariamente dotata immaginiamo rimaneva in casa era altrettanto desiderosa di avventura altrettanto ricca di fantasia altrettanto impaziente di vedere il mondo quanto lo era lui ma non venne mandata a scuola non ebbe la possibilità di imparare la grammatica e la logica men che mai quella di leggere Orazio e Virgilio di tanto in tanto prendeva in mano un libro magari uno di quelli di suo fratello e ne leggeva alcune pagine ma a quel punto arrivavano i genitori e le dicevano di rammendare le calze o badare allo stufato e smetterla di fantasticare fra libri e fogli di carta avranno certo parlato con tono brusco ma gentile perché erano gente concreta che sapeva come debbono vivere le donne e amavano la loro figlia anzi più facilmente di quanto non si creda lei era la prediletta di suo padre è possibile che scrivesse di nascosto qualche pagina su in soffitta ma stava bene attenta a nasconderla o a bruciarla grazie a tutti Grazie a tutti